Non è l'Avaro e neanche il malato immaginario, ma c'è tutto Molière che incontra l'umanità dei De Filippo in l'Avaro immaginario spettacolo che avrà luogo al Roma Teatro di Cerignola domenica 26 novembre. A portarlo in scena, insieme a Nunzia Schiano e sei attori della compagnia Luigi De Filippo, sarà Enzo De Caro in qualità di regista, adattatore del testo e attore. Il protagonista di questo viaggio da Nola a Versailles è una compagnia di guitti napoletani con il loro carrozzone che fungerà da palcoscenico di piazza e da casa viaggiante guidato dal capo comico Oreste Bruno. Un viaggio nel teatro di Molière, ma anche un viaggio nel 600, un secolo pieno di guerre, epidemie, di grandi tragedie, ma anche di profonde intuizioni e illuminazioni. Questo quanto si legge nelle note di regia per uno spettacolo che è una fuga dalla peste e dalla miseria. L'Avaro immaginario sarà preceduto dal debutto dello spettacolo Raperonzolo, mentre la rassegna del Roma Teatro proseguirà giovedì 7 dicembre con La Cantata dei Pastori.